Cesare Donini, Savona 9 aprile 1934, dipendente delle ferrovie dello Stato nel periodo lavorativo in pensione ormai da una ventina d'anni, sono entrato in azienda nel 1956 per concorso pubblico. Era un concorso molto ricco, c'erano 600 e tanti posti, le ferrovie dovevano rinnovare il personale, poi c'era stata la guerra, c'erano state tante situazioni, quindi è stato un rinnovo, era un concorso da capostazione e capogestione ed era per diplomati, entrai abbastanza bene anche come graduatoria e quindi veni sicuramente subito assunto, non solo, ma fui abbastanza fortunato perché tenendo conto che io vivevo a Savona, del nord ce n'erano tanti candidati che avevano vinto il concorso, ma c'erano anche tanti del sud, di fatti ci convocarono tutti a Torino noi per poi distribuirci nelle aree piemontesi, nel gruppo di persone che vennero a Savona ce n'erano alcuni di Savona, per esempio Carlo Rebagliati che poi diventò direttore compartimentale di Genova e altri ancora della località e poi c'erano dei meridionali, di lì cominciò la mia carriera, restai dopo il primo periodo dei corsi di commerciale, di movimento, quindi sei mesi, telegrafo e tutto il resto, entrammo in attività. Tutti noi giovani, io avevo 22 anni, eravamo destinati al movimento, cioè a circolazione treni, a me non piaceva, mi piaceva più il commerciale ed è stata anche la mia fortuna questa scelta e mi piaceva anche per un motivo, perché allora c'era il telegrafo, il telegrafo funzionava, i comunicati si facevano anche un po' col telefono, poi magari si registravano, ma si dovevano fare assolutamente col telegrafo e rimasi lì per un po' di anni. Dopodiché passai nella nuova stazione di Mogrifone perché non c'era assolutamente niente al di fuori del fabbricato viaggiatori. Perché passiamo di lì? Perché l'azienda ristrutturò l'area commerciale del compartimento di Torino, ridusse i reparti, c'erano nei reparti una Modane che era di transito verso la Francia, ce n'era una Torino, ce n'era una Novara, ce n'era una Cuneo e ce n'era una Alessandria. Cuneo e Alessandria erano due grandi reparti, lì tagliarono, Savona era l'unica località della Liguria che era di Torino e c'erano dei motivi storici per averla sotto Torino, forse non lo so da quando, ma sicuramente anche perché la Fiat ci teneva avere uno sbocca al mare. E allora cosa è successo? Che nacque questo reparto, questo reparto essendo nuovo, il dirigente venne da Alessandria con il revisore che era quello che faceva le verifiche contabili, ma avevano bisogno di uno del posto che conoscesse un po' la realtà, la situazione e mi segnalarono e presero anche chi vi parla. Il reparto si concludeva con un assistente e con un ausiliario e di lì cominciò la mia carriera ferroviaria, la mia carriera ferroviaria poi la fermiamo subito perché poi vinsi il concorso da ispettore e siccome era già diventato a livello di capogestione sovrintendente, entrai nella carriera direttiva da ispettore di prima classe, c'erano queste classificazioni qui, oggi è cambiato tutto. Dopodiché vinsi di nuovo il concorso da direttivo e fui destinata a Genova, c'era un posto da ispettore capo a Roma, siccome io ero in una posizione molto favorevole, accettai di andare a Roma anche perché avevo un aggancio che mi permetteva di poter vivere senza alberghi, senza dopolavori ferroviari dove si poteva dormire, eccetera, eccetera, e andai a Roma. Nel 70 io entrai in Consiglio Comunale, ma entrai, non dico per sbaglio perché mi presi i miei voti come tutti, perché chi doveva entrare al mio posto era un amico che purtroppo è mancato da poco tempo, Pino Sturlese, un capo stazione anche a lui, ma era un dirigente, adesso una parola grande della Cisle, allora la Cisle aveva l'incompatibilità tra sindacato e partiti politici e allora Sturlese dovette rinunciare, siccome allora l'ADC come tutti gli altri partiti cercavano di avere sempre qualcuno nelle aree dove c'erano tante persone, dove potevano essere conosciuti e le ferrovie ne avevano di questi, perché c'erano tanti settori delle ferrovie, c'era la trazione, gli impianti elettrici, il commerciale, il movimento, eccetera, eccetera, e insomma entrai io al posto di Pino Sturlese che era una posizione altrettanto conosciuta, eccetera, eccetera, ma io entrai convinto alla democrazia cristiana, perché se vi faccio la storia della democrazia cristiana andiamo al 48 addirittura, ma non ne parliamo, perché in casa mia si preparava la colla dei manifesti che poi a mezzanotte, 11 e mezza si usciva, io ero, avevo 14 anni, ecco Bulacu si andava, io ero lì, ero il più piccolo, eccetera, eccetera, in una zona che non vi ho ancora detto, perché adesso parliamo di una zona dove io vivevo che era via Mogrifone e poi parleremo eventualmente anche della Ronda, di quell'area lì, perché era un'area che era sostanzialmente qua, non dico disabitata, disabitata, ma quasi, perché via Mogrifone è quell'area che dalla ferrovia, dalla strada che costeggia la ferrovia via Vittime di Brescia, su quella collinetta lì, che c'erano degli orti e basta, e poi c'era un comparto, che è ancora quello che esiste adesso, di via privata, tra l'altro, Mogrifone, ma lasciamo stare, quando io sono entrato lì, stata a Roma, ho fatto la mia carriera ferroviaria, eccetera, eccetera, allora io entrai e diveni consigliere comunale, già la prima prova che feci da candidato, era un gruppo, il capogruppo era il senatore Varaldo, c'era, insomma, una bella squadra, adesso non lo dico perché era il mio partito, ma perché avevamo una presenza significativa, in comune la maggioranza è sempre stata quella di centro-sinistra, ma ci sono stati anche dei periodi, specialmente nell'immediato dopo guerra e subito dopo, che vi fu anche una presenza della democrazia cristiana, io comunque feci la mia parte, io avevo il settore, siccome avevo fatto economia e commercio, avevo il settore del bilancio, che era un settore un po' trascurato, perché chi sosteneva la giunta diceva di sì, chi non sosteneva la giunta diceva di no, ma non è che ci fosse un grande dibattito, c'era un po' di dibattito, parliamoci chiaro, sull'edilizia, su quelle pratiche lì, dove tutti avevano qualche interesse che non era tanto di carattere, come si può dire, sul territorio della città, era di carattere di qualche tipo, di area che qualcuno suggeriva, che era opportuno fare una cosa, fare un piano regolatore, dottoressa, e io invece insomma che avevo anche un po' di riguardo a te, che poi quando avevo deciso di chiudere e sono andato definitivamente in pensione dal punto di vista politico, con la vittoria di Gervasio, amici agli scolopi, tanti anni prima, anche lui, 1934, insistette perché io entrassi con lui in giunta, io gli ho detto, caro Franco, io in giunta ho chiuso, non ne voglio sapere, le pressioni furono tali e tante che poi insomma alla fine dovete cedere, entrai quando avevo deciso di chiudere per la prima volta da assessore, e allora la giunta di Gervasio è stata l'unica che ha avuto, adesso non posso giurarci, ma direi proprio di sì, perché oggi c'è una plettora di assessori, oggi noi eravamo sei, tant'è che io oltre ad avere le finanze, ne avevo altri due, avevo il patrimonio e avevo il legale che mi preoccupava perché io non avevo studi giuridici, comunque c'era una squadra di dirigenti che era in altezza della situazione, io particolarmente ero fortunato che avevo il dottor Delfino che era un esperto addirittura del Ministero, quindi insomma ero ben introdotto e cominciai la mia attività in comune. Che cosa succede? Succede che io entro in comune nel 70 e nel 74 scoppia la prima bomba a Savona e dove scoppia la prima bomba a Savona? Scoppia nel portone, nell'abitazione del senatore Varaldo. A quel punto io, perché quando è successa la prima bomba? Fu un periodo terribile, furono 400 giorni da quando iniziò a quando finì, ma furono ben di più, perché quando scoppiò l'ultima bomba e si capiva che c'era una coda, però la gente restò ancora preoccupata per tanto tempo, perché tra un gruppo di bombe e altre, a parte il settembre che fu un disastro, ci furono sei attentati, alcuni dei quali diciamo bienali, il giorno 23, il giorno 24, una cosa terribile. La popolazione di Savona, giovani, meno giovani, anziani, per ragioni del tutto diverse, avevano veramente paura. Varaldo era una persona squisita, era una persona riservata con noi su alcune cose, ne parlava, eccetera, eccetera, ma aveva anche la riservatezza, per esempio, nei confronti delle maggioranze, perché lui ne ha fatte molte di più di quelli che ho fatto io, perché lui c'era già in comune, uscì prima di quando io poi continuai ancora e fu il suo successore come capogruppo, però Varaldo era molto riservata, se io gli avessi fatto delle domande sulla bomba, non lo so che cosa mi avrebbe risposto, che cosa mi avrebbe detto, non lo so, io però sapevo che quella bomba lì aveva un significato politico, perché non si va a mettere una bomba dove c'è un… teniamo conto che noi venivamo da episodi terribili già di quel tipo, la loggia, la piazza della loggia di Brescia, il Banco dell'agricoltura di Milano, qualcun'altra, ma tutte con l'italicus, strage, morti, infinitamente. Quando si arrivava a Sivona si pensava che potesse essere anche un crescendo e si potesse passare da episodi localizzati, un'abitazione come poi ci furono le altre dove ci fu l'unico decesso della nostra città, ma ci fu poi soprattutto tutta una serie di altri, come si possono dire, appuntamenti con le bombe che nessuno riusciva a capire che traccia c'era dietro queste vità, perché ci furono delle situazioni, ci fu Varazze, ci fu Vado, Varazze, la stazione dei Carabinieri, Vado, l'Enel, la ferrovia, la ferrovia che lì andò veramente bene, perché evidentemente non erano esperti di circolazione, perché loro minarono probabilmente un binario sul ponte dell'Acquabona, diciamo Cimavalle per chi è della zona, perché se lì si minavano tutti e due i binari, non lo so come poteva andare a finire, il ponte dell'Acquabona aveva già precedenti perché era stato bombardato durante la guerra, lì non poteva saltare con quell'esplosivo lì, ma sicuramente il treno potrebbe anche deragliare e se il treno deraglia sul ponte, voi l'avete tutti presente il ponte dell'Acquabona. Comunque ripeto, non si capiva l'orientamento di questa strategia, perché le cose erano strane, poi anche luoghi completamente fuori dalla nostra città, Montecciutto che non c'entrava niente, che era facile anche mettere una bomba perché nessuno guardava da quelle parti lì, la prefettura, dietro la prefettura perché sulla piazza metteva male, metterebbe probabilmente una bomba, quindi tutta una serie di circostanze, di bombe che continuavano a scoppiare e che non si capiva chi c'era dietro. Per la verità, che viene a dire anche questo, a un certo momento si cominciò, dopo le prime 3, 4, 5, si cominciò a pensare anche per i precedenti che c'erano stati, da dove potevano venire queste bombe, perché fu chiaro e sempre più si andava avanti più l'orientamento era su quel tipo lì, ma poi se andiamo alle conclusioni non ci fu mai un blocco di qualcuno, un fermo di qualcuno, un'indagine su qualcuno che ci portasse a una conclusione certa su questo, certamente lo spirito era quello lì. Parlerei proprio della vigilanza, perché le Ronde non sono nate dopo il primo o il secondo tentato, nacquero dopo il terzo o il quarto, cioè dopo il famoso novembre e io vivevo al di là della stazione ferroviaria in quel gruppo di case che stavano sorgendo, dove c'è via privata a Mogrifone. Dunque lì c'era il palazzo 1 del 74 costruito, finito abitato, il 2 era la villa Manara che erano i proprietari del terreno, ma erano fuori dal comparto perché c'era una divisione, dico il 2 perché c'è l'1, poi c'è il 3, se non si dice il 2, poi quando si arriva al 4 non si capisce perché il 2 non ci sia. Il 3 era il 4, il 4 che era sulla destra, quindi il 2 non c'era, ma il 4 c'era, era dove abitavo io. Il primo fabbricato erano 12 appartamenti, tutti gli altri di cui parleremo erano di 24 appartamenti, sembrano molti. Poi c'era il 3 di 24 appartamenti e poi c'era in costruzione il 6, perché poi il comune non diede l'autorizzazione al proseguimento della via all'interno di questo comparto e fu un'intelligenza averlo fatto. Per cui noi fino al 6 entravamo da via Domizoni, da quel palazzetto antico con gli archetti, si saliva e gli altri dovevano salire dove oggi c'è la rotonda che poi si scende dall'altra parte e entrare nel condominio che c'è adesso. Comunque era una zona di persone completamente nuove. Mettere insieme il gruppo per fare le ronde non fu facile, perché se io fossi stato dove sono nato, alla Magnola, bastava alzare un dito, si trovavano gli amici, i conoscenti, invece lì era tutto più difficile. Però alla fine della favola riuscimmo a trovare un gruppo di persone che si impegnava a seguire praticamente quell'area lì. Perché se si passava all'attuale galleria e si andava a Piazza Marti della Libertà, via Domizoni, eccetera, eccetera, lì c'era già costruito, ma c'erano altri, c'era un altro gruppo che faceva capo, penso in parte, lì c'era già diverse associazioni, c'era la CISL che aveva la sede che stava costruendola forse in quel periodo lì. Allora noi ci mettiamo lì e che cosa si faceva? Prima si sono cercati un certo numero di persone, tra l'altro io non lo so se c'erano delle donne che partecipavano alle ronde, noi non avevamo, eravamo tutti uomini, tutti uomini e si faceva sopra dal lunedì alla domenica, che erano i giorni di una settimana e dall'altra parte si mettevano le ore, le ore. Direi per la strada, ho un casa di qualcuno, ma io non ricordo di aver frequentato delle abitazioni, ci vedevamo lì perché non c'era niente, perché di là c'era una casa di un contadino che tra l'altro era fatta a suo modo, quindi non c'era mai cosa pensare, si poteva venire in casa di qualcuno di noi, ma non era così, eravamo un po' del tutto autonomi, non ci interessava. Ecco una cosa bella che è stata delle ronde, che non c'era l'appartenenza, si era dei savonesi, poi c'era, neri non ce n'erano, questo lo posso anche per l'esperienza poi che ho avuto di conoscenza, eccetera, c'erano della democrazia cristiana, se l'ho detto per prima, partito comunista, numerosissimo, partito socialista, un po' di socialdemocratici e poi liberali, non me ne ricordo, però di liberali poi faccio un caso un po' particolare, quindi c'erano tutti questi partiti che, essendo un clima completamente ad avviarsi di quello che poi c'è stato successivamente, che c'è oggi, eccetera, si entrava in un gruppo di persone che volevano cercare di difendere l'area dove si viveva, quello che esisteva, dove loro vivevano, nel momento tragico, nel momento della paura, perché il fatto anche di esserci ronde è stato per chi le metteva una difficoltà grossa, perché se sono andate poi a metterli in posti stranissimi, lontanissimi, fuori mano, sull'autostrada, dove era facile mettere una bomba, lì nel centro ne misero tante, specialmente in quel maledetto mese di novembre, alla fine della favola noi ci schieravamo, ognuno diceva quello che poteva fare, c'era una qualche elasticità, guarda io posso fare un'ora solo, di solito noi facevamo due ore, per turno eravamo due, no, eravamo tre di norma, non di più, ma perché? Perché lì pur con i fabbricati di cui parlavo prima, c'erano tanti che avevano una certa età, altri che non se la sentivano, perché c'era anche qualche disinteresse subito su queste cose, ma cosa fanno il rondo, una polizia, un gay carabinè? Allora alla fine della favola ci siamo organizzati e le abbiamo tenute in piedi finché poi le ronde si sono fermate, di fatto, e si sono poi successivamente riprese, si sono ricostituite più o meno nella stessa formazione con cui erano nate, le facevo il cenno all'altro, perché? Perché io sono entrato d'altronde nel… io non sono sollecitato da nessuno, io ero un consigliere comunale della mia città, succede quello che succede, ho sentito il dovere di dire io ci sono, poi avevo anche un altro motivo, che ero quello che viveva in una zona dove noi pretendere che ci fosse lì una squadra, una ronda che venisse da noi, mettetevi un po' d'accordo anche voi altri, quindi c'erano dei motivi che gli ho sentiti, ma devo dire ognuno aveva i suoi motivi, tutti gli avevano qualche motivo, che potevano essere anche diversi da quelli che ho fatto cenno io, perché oltretutto io ero anche dipendente delle ferrovie ed ero nel dopolavoro ferroviario e non ero eletto io nel dopolavoro ferroviario, ero di nomina aziendale, che di solito la nomina aziendale decideva, l'azienda dice io metto Donini nel consiglio di amministrazione del dopolavoro ferroviario, punto e basta, poi c'erano tutti gli altri, tutti gli altri avevano degli indirizzi anche politici, io mi ricordo stato tanti anni con Alessi che è stato per tanti anni Presidente del Partito Socialista e allora c'era una ricerca di avere delle rappresentanze un po' politiche in modo da poter dire guarda che tra i ferrovieri c'è un democraziale, c'è un comunista, c'è un socialista, c'è un socialdemocratico, non mi ricordo proprio, c'è un repubblicano e c'era liberale, perché il dopolavoro ferroviario era una potenza, quasi tutti i ferroviari erano iscritti al dopolavoro ferroviario, la Befara del dopolavoro ferroviario, allora i figli lì si entrava nel dopolavoro ferroviario, poi le bocce, poi il circolo, il biliardo, le gite, tutte queste cose portavano ad avere un'aderenza al dopolavoro ferroviario e quindi fare un gruppo di persone che appartenevano formalmente iscritti a dei partiti era una cosa importante per invogliare anche un pochino tutti gli altri, non costituivano mai ronde, perché noi la ferrovia l'avevamo solo guardata, c'era la polizia ferroviaria, poi c'erano tanti altri motivi per poterla considerare protetta per quanto riguarda l'impianto, ma per quanto riguarda tutto il resto, i liberali non è che fossero molto presenti, lo dica Malincuore da Savonese, no, mi dica se c'è una giornata, un ricordo di quel periodo lì, può darsi che sia io che sono fuori, se lei mi dice no, guarda che tutti gli anni c'è il ricordo del sentimento quando incontri le persone che ormai abbiamo quasi 80 anni, quelli che ne hanno 60, quelli che ne hanno 50, ma siamo già lì al limite e allora magari parlano, rivivono, ma non è istituzionale, secondo me ci vorrebbe qualche cosa da parte degli enti locali che ricordasse quel periodo lì, io non dico di fare delle grandi cose, dei grandi convegni, ma anche in un decennale, in un ventennale, in un trentennale del periodo fare qualche cosa che lo ricordi, perché ripeto ci fu una partecipazione della popolazione un po' interessata, perché aveva paura, la gente aveva paura, io mi ricordo quando entrava in consiglio comunale, noi guardavamo sempre, non solo nei dintorni delle nostre sedie, ma si apriva quella grande finestra che vai sul poggiolo che dà sulla piazza, perché poteva esserci qualcosa lì dietro, questa è una piccola cosa, ma è significativa, ma io poi conoscevo tante altre persone che avevano, c'era una grande preoccupazione, la gente la sera non usciva di casa, aveva paura, ma pensate quel maledetto mese, che maledetto nel senso per quello che è successo, ogni 2-4 giorni una bomba, il giorno dopo altra bomba, una bomba qua, una bomba là, è stato forse anche difficile per le forze dell'ordine, io non voglio qui non fare né meriti né demeriti a inquadrare subito l'indirizzo di quei fatti, perché non si riusciva a capire, da una parte c'erano i carabinieri che varazze l'attentato, l'altra volta c'erano le ferrovie a Quabona, l'altra volta c'era la casa del privato, l'altra volta c'era il senatore, un momento, io sono entrato anche, non l'ho detto prima, però rispetto al senatore, lui era il mio capogruppo, io ero un consigliere del comune, primo, secondo, lui era il capogruppo, la bomba l'avevano messa a casa sua, insomma faccio per dire casa sua al portone, è stata una bomba terribile, quindi io entrai tranquillamente, non ero solito partecipare a grandi cose, eccetera, eccetera, avevo il mio settore, le mie cose e basta, e i savonesi, ripeto ancora una volta, avevano paura e i savonesi sono stati disinteressati dai bianchi, dai rossi, dai verdi, possiamo perdere i neri, di partecipare, di vivere questa settimana, perché era una quantità non da poco che si muoveva dalla sera alle 10 fino al mattino alle 6 e qualcuno poi, ah c'era da dire anche una cosa, ci sono state anche delle ronde, che non si chiamavano ronde, nelle fabbriche, per salvaguardare i loro posti di lavoro, in particolare ricordo quella dei portuali, insomma chiamiamola così, che riguardava l'ambiente portuale, lì ce n'era una che funzionava, le funivie avevano una particolarità che potevano, era difficile andare dal funivio, ci andavi con una barca a far saltare la prodo, altrimenti non ti andavi, perché si doveva passare tutto all'interno, da via Aurelia a scendere giù, ma insomma molte fabbriche avevano dei gruppi di persone che svolgevano questa funzione, d'accordo con le direzioni. Io le ronde le ricordo, che era una zona che ce le siamo un po' creata, io c'ero di mezzo, non voglio dire che ero il promotore, non è così, è venuta fuori insomma, che non era tanto facile, perché erano palazzi nuovi, famiglie nuove, situazioni nuove, io non potevo dire a uno, non potevo dire ma cosa c'è l'amica, l'abbiamo fatta ugualmente, è stata, io quell'aspetto lì l'ho sempre valutato in maniera molto, molto positiva, i savonesi hanno risposto, i savonesi avevano paura, i savonesi hanno risposto.